Decine le chiamate ai vigili del fuoco per le raffiche di vento che hanno provocato danni scoperchiando tegoli e abbattendo rami sul territorio. Caos in tarda mattinata lungo la tangenziale di Mestre in prossimità del raccordo per Venezia-Porto per l'inclinazione di un palo portante dell'illuminazione piegato dal vento. I tecnici hanno lavorato ore per la rimozione e la messa in sicurezza dell'impianto che ha richiesto la chiusura di due corsie di marcia per ogni direzione. A coadiuvare il personale oltre alla polizia stradale di Mestre anche i vigili del fuoco con autogru e autoscala. Disagi prima di mezzogiorno anche lungo la linea ferroviaria Bassano-Venezia all'altezza di Salzano per un albero caduto sulla linea aerea che ha bloccato la circolazione dei treni. Nessuno è rimasto coinvolto ma la percorribilità è stata bloccata fino a quando i vigili del fuoco e i tecnici non sono riusciti a rimuovere l'albero e ripristinare la linea elettrica. Disagi anche a Caorle dove un albero è caduto in piazza Veneto. I pompieri sono intervenuti anche per una decina di alberi pericolanti a Chioggia, Mestre e Sandonà di Piave. Queste raffiche di vento allontanano le precipitazioni portando però gelo e temperature sotto lo zero previste già nella notte fino alla prossima settimana. La centrale operativa della polizia locale e la protezione civile del comune di Venezia infatti comunicano che entreranno in azione i mezzi spargi sale. Nel piano di informazione Ocio che nevega predisposto dal comune vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti per evitare rischi e disagi a causa di neve e gelo.